Terzo giorno di Gibraltar Race 2017, seconda vera e propria tappa. Abbiamo passato il primo confine nazionale dalla Bulgaria, siamo entrati in Macedonia. Ci troviamo a Scopie, ma ecco com'è andata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo bene, siamo bene, 4 minuti di spazio. Nella tappa di oggi abbiamo avuto il primo superamento di una frontiera, quella tra Bulgaria e Macedonia. Un superamento che è avvenuto senza particolari problematiche, ma che ovviamente ha fatto perdere un po' di tempo a tutta la carovana. La giornata è stata piuttosto semplice, con un lungo trasferimento intervallato da due sezioni speciali. La prima ancora in territorio bulgaro, la seconda in territorio macedero. Due speciali molto diverse. La prima caratterizzata da un percorso roccioso, montano, simile alla nostra via del sale, durante il quale i concorrenti si sono concentrati più sulla guida che non sulla navigazione, che non presentava particolari difficoltà. Cosa che invece non è avvenuta nella seconda speciale, dove invece era proprio la navigazione, l'aspetto tecnico da tenere più sott'occhio, perché si trattava di una sezione in mezzo a un terreno più agricolo, a Greste, con parecchi campi di grano. E infatti molti concorrenti hanno sbagliato, si sono fatti ingannare e hanno preso delle vie alternative. Troviamo un sacco di spighe di grano nei loro radiatori, segno che hanno dovuto fare manovre in zone dove non avrebbero dovuto essere. A parte questo, la difficoltà era rappresentata da un terreno misto, sabbia e in alcuni tratti più argilloso, con diverse pozzangre, ma soprattutto i solchi lasciati dai mezzi agricoli. Questo ha complicato un pochettino la guida, ma tutti i concorrenti sono arrivati a destinazione a Scopia, sorridenti, in una giornata piuttosto serena e molto calda, e si stanno ora rifucillando e preparando per la giornata di domani, che ci porterà in Albania. E' stato scoperto, scoperto nelle montagne. Ho di nuovo avvicato, ecco qua, bello eh? Era lungo, quasi 15, altro pezzo, ma l'ha buttato via il contadino vulgaro. Un nuovo carro, un nuovo me. Siamo in Albania domani, felici. Ehi, day 2 finito, day 2 finito del Giabraltar Challenge. Ehi, day 2 finito del Giabraltar Challenge. Ehi, day 2 finito.